Musica Lunedì 14 dicembre, buongiorno, benvenuti allo spazio informativo del mattino e alla prima edizione del DG in regia Donato Mignogna. L'apertura è sulla cronaca legata all'emergenza coronavirus perché un ragazzo di 16 anni di termoli è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva con una grave insufficienza respiratoria. Ce ne parla in questo servizio Andrea Nasillo. Un ragazzo di 16 anni di termoli è ricoverato in gravi condizioni al Santimoteo. Sarebbe arrivato all'ospedale con un quadro clinico molto grave, tanto che trasferirlo al Cardarelli di Campobasso poteva essere rischioso. Con una grave insufficienza respiratoria era necessario intervenire subito ed è stato quindi intubato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale termolese. Sarebbe risultato positivo al covid-19. Il 16enne aveva febbre e una desaturazione importante e la successiva TAC ha evidenziato una polmonite interstiziale. Sulla vicenda interviene il consigliere regionale Vittorino Facciolla. Sembra che questo ragazzo, afferma il consigliere del PD, sia stato tenuto dapprima nella cosiddetta zona grigia e quindi sia stato trasferito d'urgenza nel reparto di terapia intensiva. Perché il ragazzo verosimilmente positivo al covid non è stato tenuto in zona grigia? Perché, scrive Facciolla, non è stato trasferito subito al Cardarelli a Campobasso? E perché c'è stato bisogno di spostarlo in terapia intensiva? Ci auguriamo che il ragazzo possa guarire ed essere dimesso il prima possibile. Il problema però resta, e cioè che l'ospedale Santimoteo è di fatto, scrive ancora Facciolla, un ospedale misto dove ci sono troppe zone promiscue e dove è quasi impossibile evitare i contagi. Ed ora l'aggiornamento sulla covid-19. Nelle ultime ore si registrano 40 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 91 anni, ospite di una casa di riposo di Ripa Bottoni. Piacentino Salati. Diminisce rispetto alla giornata di ieri il numero delle persone positive al coronavirus, a fronte però di 337 tamponi processati. Da registrare un decesso una donna di 91 anni, ospite della casa di riposo di Ripa Bottoni. L'ultimo bollettino dell'ASREM indica 40 nuovi positivi e nessun nuovo guarito. I contagi riguardano 15 comuni della regione. Da segnalare 14 casi positivi a Tavenna, 7 a Termoli. Quanto alla situazione al Cardarelli ci sono 8 nuovi ricoveri, 7 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Una persona è stata dimessa dal reparto di malattie infettive. I ricoverati totali sono ora 70 e di questi 8 sono in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 2.732. Il numero delle vittime invece sale a 163. E cambiamo argomento. La netta presa di posizione di sindacati, associazioni di categoria e datoriali nei confronti della regione Molise finisce sul sole 24 ore. Restano contrapposte le posizioni. Per il presidente della regione Toma la concertazione e la partecipazione sono stati percorsi rispettati. Di parere è nettamente contrario il sindacato. A parlare è Paolo De Socio della CGL al microfono di Pasquale Di Bello. Vediamo. Il braccio di ferro che contrappone da un lato sindacati, associazioni di categoria e datoriali e dall'altro il presidente della regione Molise Donato Toma diventa una notizia di interesse nazionale e finisce sulle pagine del sole 24 ore il quotidiano di Confindustria. A fare notizia è la strana alleanza tra parti notoriamente in conflitto tra loro come sindacati e la stessa Confindustria. Motivo della contesa la mancata concertazione e partecipazione lamentata da sindacati e associazioni nel processo di programmazione delle politiche regionali. Secondo il governatore le procedure sarebbero state rispettate ma i sindacati mantengono il punto e ribadiscono le critiche. Si è acceso un riflettore nazionale su questa vicenda, un riflettore ritengo indispensabile e necessario, che è proprio quello che sottolineiamo all'interno del documento articolato e inviato al governatore Toma. Ci sono alcuni temi di rimenti, sanità, trasporti, infrastrutture, istruzione che noi abbiamo ritenuto non possano essere più affrontati solo in chiave regionale. Quindi abbiamo provato anche ad inoltrare ai nostri rappresentanti istituzionali e nazionali questo che sosteniamo. Abbiamo fatto tre o quattro proposte, quindi iniziamo a chiarire che il documento è propositivo. Poi c'è un problema di metodo. Il problema di metodo è che il Presidente di questa Regione dall'inizio della sua legislatura, a nostro avviso, ha interpretato in maniera un po' altalenante. Non ha convocato le parti sociali nelle scelte importanti per il presente e per il futuro di questa Regione. Noi pensavamo fosse solo una difficoltà a comunicare con i sindacati. Quando ci siamo accorti che anche il partenariato, ci sono 13 associazioni, 9 oltre CGL, Cisle Will, che hanno sottoscritto un documento duro a questo punto, inevitabilmente duro, e abbiamo dovuto necessariamente alzare il tiro e continueremo su questa impostazione fino a quanto non si capirà che in questa Regione c'è bisogno di tutti gli attori sociali, istituzionali, di tutte le migliori energie se vogliamo uscire fuori da questa ennesima devastante crisi. Il Presidente Tom ha fatto sapere che convocherà le parti. In quella sede si capirà l'esito per nulla scontato della vicenda. I sindacati si dicono pronti alla mobilitazione. C'è uno sgarbo istituzionale rispetto alle relazioni. Non è possibile, credo, fare scelte che riguarderanno il futuro di lavoratori, pensionati e cittadini molisani da uomo solo al comando. Noi, parlo per CCL e Cisle Will, in ambito regionale rappresentiamo tra lavoratori e pensionati più di 60.000 persone. Ecco, io credo che sia distorto il concetto della rappresentanza in questo momento in Regione e quindi prima di tutto va ripristinato un rapporto sereno con le parti sociali qualora ce ne sia interesse, perché così non si può andare avanti. Paolo De Socio chiarisce anche il giallo della firma dell'Associazione degli Edili, Ance Acem, in calcio al documento inoltrato a Toma. Il Governatore, citando l'Associazione, ne aveva escluso la partecipazione. L'occupazione De Socio invece conferma erano consapevoli e hanno dato il loro consenso. Il Presidente asserisce che non sarebbe stato sottoscritto dagli Edili. In effetti il rappresentante degli Edili, io non lo conosco personalmente, ma ho nomi, riferimenti, li faccio pubblicamente senza nessun timore di essere smentito, tale Danilo Martiro, ha condiviso tutto il percorso insieme a noi. Mi ha inviato il logo e chiaramente l'autorizzazione a una firma fatta via internet di questi tempi, è anche difficoltoso vedersi di persona e quindi il documento è stato sottoscritto. E con il TG ci fermiamo, adesso uno sguardo ai quotidiani. Iniziamo come sempre dal web e dal giornale del Molise.it, l'apertura è questa, Covid, processati 337 tamponi, i positivi sono 40. Una vittima, una donna di 91 anni, ospite della casa di riposo di Ripa Bottoni. Si parla anche dell'intervento del Ministro Speranza per quanto riguarda le nuove ordinanze. Scorrendo la OM, il giornale Molise ricorda la vicenda del ragazzo di 16 anni, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Timoteo di Termoli. E quest'altra vicenda, la signora Silvana, struncata dal Covid con le accuse da parte del figlio. Ci sono altre notizie in OM. Questa riguarda le tredicesime più leggere per i lavoratori molisani, che quest'anno hanno soffruito della cassa integrazione. E ancora più in giù, Università di Termoli, il comitato studentesco scrive al Rettore Brunese, al Presidente Toma, ha chiesto il rafforzamento della sede. Adesso futuro Molise. Covid, 16 anni ricoverato al San Timoteo di Termoli in gravi condizioni. Dunque anche qui l'apertura è su questo fatto di cronaca legato alla sanità. Poi l'ACEM, dalla regione Molise, via libera allo sblocco dei pagamenti e a nuove opere per il 2021. Altre notizie da Termoli. 8 posti letto per i senza tetto al dormitorio di via Martiri della Resistenza. E ancora il Rotaract Interclub Zona Molise interviene sull'ambiente, dice remiamo insieme per fermare il cambiamento climatico. Ci spostiamo adesso su primo piano. L'apertura è qui. Un decesso e 8 ricoveri, 337 tamponi, 40 contagi. Intanto il tasso di positività sale all'11,86%. Il totale dei pazienti al Cardarelli tocca di nuovo quota 70. Ci sono diverse notizie correlate all'emergenza sanitaria. Si parla di spostamenti a Natale. Ecco le ipotesi al vaglio di Camera e Senato. Mentre da Montaquila Ricci, che è il sindaco, resiste scuole chiuse fino all'epifania. In alto, notizie sotto la testata da Termoli. Gravi le condizioni del sedicenne ricoverato in rianimazione. Ma trapela cauto ottimismo. Si valuta intanto il trasferimento all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Da Campobasso, invece, parla la vice sindaca in tempo di pandemia. Dunque, timori e certezze di Paola Felice. Per la sanità molisana, dice, tutti potevano fare di più. Anche il Movimento 5 Stelle. L'approfondimento nella rubrica Il Punto, a firma del direttore Luca Colella. Loro litigano e il Molise scompare. Il direttore si sofferma, fa un focus sugli ultimi dati dell'Istat, che indicano uno spopolamento progressivo del Molise. Ancora richiami. Campitello Matese, piste da sci off limits. I 5 Stelle puntano Toma e dicono altro che Covid è colpa delle sue scelte. Adesso a Venafro, riscaldamenti accesi e le polveri sottili calano. Inquinamento in città, mistero fitto sulle cause. Grande spazio come ogni lunedì allo sport, in particolare al Campobasso. Lupi devastanti è il titolo, che fa capire come è andata la partita ieri. Campobasso demolisce il notaresco. Cogliati fa poker ed entra nella storia. E' esposito irresistibile. Dunque, riconquistato il primato. Cudini dice, sono contento, plauso ai ragazzi. E il vasto Girardi coglie un buon pareggio sul campo del Monte Giorgio. Sempre in serie D, Crisi Matese, K.O. Casalingo contro il sorprendente Castelnuovo. Per quanto riguarda il basket di A1 femminile, Amara trasferta per la Magnolia. Arriva la quarta sconfitta di fila. Infine, l'atletica show di grano nella maratona. E' campione italiano. E adesso sui quotidiani nazionali. Qui due sono gli argomenti che troveremo un po' sulle prime pagine. Il primo è questo qua, che vedete nell'apertura del Corriere della Sera. Feste Italia verso la zona rossa. Il governo pensa a una stretta sul modello Merkel, con chiusure di bar, ristoranti e negozi. Intanto in Germania torna la linea dura, vertice d'urgenza a Palazzo Chigi, su richiesta dei democratici. Piano vaccini con 1.500 padiglioni. E a centropagina si sono queste due foto notizie. Nei centri storici, assembramenti da Roma a Milano. Dunque un fiume di gente in via Condotti. Siamo chiaramente nel cuore di Roma. E poi a Milano. Per la politica Conte dà il via alla verifica, l'apertura di Berlusconi. Oggi il premier incontra i capi del Movimento 5 Stelle. Salvini dice abbiamo i numeri. Passiamo a Repubblica. Punta molto sulla decisione di Angela Merkel. La Germania chiude per virus. Italia, nuovi divieti per Natale. Lockdown tedesco fino al 10 gennaio. Pandemia fuori controllo. Tempi lunghi per le vaccinazioni di massa. Intanto sale l'indice dei contagi. Si teme la terza ondata. Il governo pensa alla zona rossa in tutto il paese per le feste. Recovery. Renzi pronto a ritirare i ministri il 28 dicembre. Come possiamo vedere anche qui a centro pagina, folla in centro a Milano nel primo giorno dell'ingresso della zona gialla. Adesso la stampa di Torino. Troppa folla. Natale in zona rossa. Vertice d'urgenza a Palazzo Chigi. Si va verso il modello tedesco anche in Italia. Oggi si decidono le nuove misure. Conte convoca i partiti e apre la verifica. Dice non mi farò commissariare. Il Movimento 5 Stelle chiede la difesa. Il di Castello della Difesa. Il PD. I servizi. In pratica sono i servizi di sicurezza. Foto che ritrae Torino. Ressa da paura nel centro storico. Ci spostiamo sul Fatto Quotidiano. Se si vota ora. Renzi sparisce. Alle destre vanno due seggi su tre. E anche il Colle dunque nomina l'indicazione del Presidente della Repubblica. L'effetto Rosatellum. Aggiunge il Quotidiano di Travaglio. La simulazione con l'attuale legge elettorale. Uno sguardo adesso a Libero. Così si cura il Covid a casa. La ricetta del professore Remuzzi. Prendere gli antinfiammatori appena si ha la febbre. Scrive Libero. Non aspettare l'esito del tampone. Fermare il coronavirus prima che esploda. Ricovero evitabile per anziani e per chi ha polmoniti. Poi ancora leggiamo. La gente va nei negozi e Palazzo Chigi si spaventa. Chiudere tutto per le feste. Ma abbiamo visto le immagini e le foto di ieri in alcuni grandi centri del paese. Il messaggero. Caos Natale. Chiusure nei festivi. Gli assembramenti fuori controllo nel fine settimana. Fanno scattare l'allarme contagi. Il comitato tecnico scientifico dice servirebbe l'Italia in zona rossa. Si lavora a nuovi divieti per sabato e domenica. Di taglio medio boom del reddito e quello di cittadinanza. In arrivo altri fondi. Controlli inesistenti. C'è un picco di richieste aggiunti 2 miliardi in migliaia però con la card senza avere i requisiti. Assalto ai negozi. Nuova stretta. Titolo che apre l'edizione di oggi del mattino di Napoli. Folla da Milano a Napoli. L'ipotesi dell'Italia tutta zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Intanto per quanto riguarda i vaccini. AstraZeneca pronta a coprire solo gli under 55. In Campania ci saranno 28 centri operativi. Il tempo di Roma. Finiti qui gli acquisti di Natale. zona rossa in festivi e prefestivi. Il governo usa le folle in centro per decidere un'altra linea dura. Si chiude di sabato e domenica. Fermi anche il 24 e 31 dicembre come il 25, il 26 e il primo gennaio. Oggi il varo delle nuove regole. Presa a pretesto Angela Merkel scrive il quotidiano della Capitale che vuole il lockdown per i suoi ma lei rimborsa il 90% a tutti. La verità, piano pandemico, qui si sta parlando negli ultimi giorni molto di questo piano pandemico, il mistero della Task Force di Speranza. Il 22 gennaio il Ministro della Salute convocò un pool di esperti per verificare se l'Italia fosse preparata ad affrontare il virus. Ma non esiste traccia di ciò che dissero. Il motivo, che si chiede la verità, che dà pure la risposta, erano riunioni informali. C'è lo sport adesso sulla Gazzetta. Arrivano i mostri. Nero-Azzurri, Inter a meno tre, difesa a quattro e partita ribaltata. Mercoledì a San Siro, super sfida con Gattuso. Bianco-neri, chiaramente la Juve, meno quattro, Di Bala, gol e Veleni. Poi c'è un virgolettato, cifre false sul contratto. Io resto. Tanto altri due rigori di Cristiano Ronaldo. E in alto, Teo, grazie, Hernandez, salva il diavolo nel recupero. È un mucchio scudetto. Quattro in quattro punti. Gran gara stregata. I rossoneri sotto di due reti prendono pure quattro pali. Poi il pari con una doppietta del francese. Pioli dice, arrivare secondi, io firmerei soltanto per il rinnovo. Bene, questi i titoli della Gazzetta e degli altri quotidiani nazionali. E' lunedì, prima di salutarci, come ogni lunedì, la linea alla regia e alla redazione sportiva per gli Highlights. Aprilia-Tolentino 2-1, Campobasso-Notaresco 4-1. Matese-Castelnuovo 1-2, Montegiorgio-Vastorgirardi 1-1, Pineto-Real Giulianova 1-0. Terme-Fiuggi-Santelpidio 2-0. Rinviate tre gare, ovvero Castelfidardo-Vastese, Olimpia-Agnonese-Ri Canatese e Rieti-Cinzia-Albalonga. Alla luce di questi risultati e considerando alcuni recuperi che dovranno ancora essere disputati, in testa il Campobasso a 16 punti, deve ancora recuperare una gara, segue il Castelnuovo-Vomano a 15 punti, Re Canatese-Notaresco a 14, Fiuggi e Pineto 11, Cinzia-Albalonga-Tolentino e Vasto-Girardi a 10 punti, Vastese-Castelfidardo e Montegiorgio 8, Aprilia 6, Matese 4, Rieti-Santelpidio ed Olimpia-Agnonese 2 punti, chiude il Giulianova a fermo ad 1 punto. Il Campobasso vince 4 a 1 contro il Notaresco, il primo gol al ventiquattresimo del primo tempo di Cogliati, servito su punizione da esposito diagonale aereo implacabile. Il pareggio a fine primo tempo dei Teramani su calcio di rigore, trasformato da Banegas. Nella ripresa si scatena il genio del bomber del Campobasso Cogliati, il quale realizza altri tre gol che fanno un totale di quattro marcature nella stessa partita. Una vittoria altisonante che consente al Campobasso di riprendersi la vetta della classifica. Al sedicesimo della ripresa di Ruocco su calcio di rigore spiazza Palombo e porta in avanti il Castelnuovo-Vomano, una perla invece il raddoppio sempre dell'undici abruzzese che incanta e stordisce il Matese che nel recupero con Galesio su calcio di rigore rende meno amara la sconfitta, finisce 1-2 tra FC Matese e Castelnuovo-Vomano. Buon punto per il vasto Girardi a Monte San Giusto contro il Monte Giorgio. Passano in vantaggio i padroni di casa con la deviazione sotto rete di Pampano per l'1-0 al dodicesimo del primo tempo. Al trentaseesimo è bravo Pesce a sfruttare il tap-in sulla corta respinta del portiere di casa. 1-1 il risultato finale. Bene adesso è veramente tutto, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi ricordo alle 14 la seconda edizione del Tg. Arrivederci.